Questa sera su Rai 1, Non sposate le mie figlie 2, regia di Philippe de Chauveron. Su Rai 2, il thriller Paradise Beach, Dentro l'inibo. Su Rai 3, il film biografico Eddie the Eagle, Il coraggio della follia. Su Rai 4, Le avventure dell'agente segreto Angus MacGyver. Su Rai Movie, Jessica Chastain è la protagonista di Molly's Game. Fate la vostra scelta. Buona visione con le prime serate Rai.